L'associazione Tedeschi ha organizzato un incontro con Giovanni Albino, molisano emigrato che da alcuni decenni vive a Volos, nei pressi di Atene, e ha promosso con altri medici un ambulatorio per curare gratuitamente i malati esclusi dal sistema sanitario. Francesco Cutro. È la testimonianza di uno dei tanti molisani nel mondo che ha mantenuto vivo il legame con l'Italia e che ha scelto di dedicarsi agli altri. L'associazione sociale Giuseppe Tedeschi ha voluto far conoscere la sua storia. Lui è Giovanni Albino, medico nato a Ferrazzano, emigrato da alcuni decenni in Grecia, a Volos, dove ha promosso un ambulatorio per persone escluse dal sistema sanitario. Soprattutto in questo periodo di crisi, negli ultimi anni in cui c'è stata questa crisi, molte persone non hanno potuto pagare i contributi per la pensione o per l'assistenza sanitaria e quindi automaticamente sono stati esclusi dall'assistenza sanitaria. Questo significa che una persona malata non può andare dal medico o non può prendere le medicine. Per cui noi abbiamo pensato di aiutare queste persone. Raccogliamo le medicine, i farmaci da farmacie o da donazioni, valutiamo il caso, caso per caso, e quindi diamo non solo l'assistenza medica ma anche le medicine. Qualora ci fosse necessità di andare da uno specialista, tramite la nostra rete che abbiamo stabilito, che abbiamo organizzato con gli altri specialisti, possiamo indirizzare anche la persona da uno specialista, chiaramente senza pagare. L'impegno è anche quello di far conoscere l'italianità attraverso un circuito di mostre innovativo. Una mostra o un evento artistico che va in un paese, in una città, poi viene trasportato a spese di chi lo manda nel paese successivo e quindi nel paese successivo e quindi nel paese successivo. Praticamente invece di spendere 100 per l'intera organizzazione, spendiamo 20, 10 per ogni manifestazione che abbiamo. Ma la sua attività a sostegno dell'Italia, anche politica, come membro dell'esecutivo del Comitato degli Italiani all'estero, sta portando avanti stage formativi per i giovani. Credo che sia giusto e corretto che il Molise si riappropri di queste storie, di questo pezzo di umanità, di questo milione di molisani che stanno nel mondo e che hanno operato e che continuano a operare, alcuni con successo e altri che in maniera più sobria, più umile, hanno però rappresentato quello che è il cuore più autentico della molisanità, cioè quello di aiutare quello che sta in difficoltà. All'incontro hanno preso parte esponenti del mondo politico, sociale e sindacale.